Ciao a tutti amici, i pro player sono dei cazzo di cheater, ci credete? Nel video di oggi vedrete il perché. Questa season ragazzi è la season delle R e delle mitragliette, quindi è arrivato proprio il momento di vedere come è messa la mira dei nostri cari pro player e streamer. Nel video di oggi andiamo a vedere quei momenti che quando la gente vede, passa subito alla conclusione che quello lì è uno cheater al 100%. Ma prima di iniziare, vi ricordo che da oggi, tutti quelli che mettono il mio codice creatore Last G nello shop di Fortnite potranno mandarmi il video dell'acquisto spendendo minimo 500 V-Buck ed io farò una partita con voi per ringraziarvi. Mandatemi tutto su Instagram, il link lo troverete in descrizione di questo video. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi tutti i miei prossimi video. E come al solito, do un caldo benvenuto a tutti i nuovi arrivati, invece a tutti i miei vecchi amici, bentornati. Partiamo subito con la prima clip, vediamo. Ma... Raga, ma questa clip l'ho già vista. L'ho già vista questa clip, vaffanculo. Madonna, che culo. Ma questi qua sono dei pazzi. Zemi lo adoro, ogni volta fa dei trickshot della Madonna, raga. Raga, raga, devo smettere di dire, raga. Mi dà fastidio. Anche questo qua, veramente, veramente bravo. Un'altra? Vediamo. Eww. Sono così bene al gioco, è vero. Figa. Figa, quasi... MOSSAA! Come cazzo ha fatto? Ma l'ha visto almeno? Fotto. Così, con proprio nonchalance. Figa, ma quanti colpi gli stanno entrando? Figa, ma quante volte sto dicendo figa in questo video? Figo, ma quante volte sto dicendo? Fogli era il 371? Figo, ma proprio l'ha laserato di brutto, ragazzi. Mi sono entrati tutti i colpi, raga, ma... È possibile sta cosa? No, no, è tutto colpo di aimbot. Che figo sta kill. Che figa sta kill. Veramente. Non so la mia... Oh, shit. Oh, shit. Cazzo, raga. Largo. L'arco. Che cazzo sta dicendo, Last Hero G? L'arco è un'arma bellissima. E intanto questo qua si sta facendo tre... Tre edge shot. È una bomba. È una bomba enorme monti farm. Knock, knock, knock. È una bomba di sonno. Madonna. Uuuuh, bellissimo. Vi immaginate fare una kill così in un torneo, cazzo? Cioè, che c***o. I ain't trained, b***h. Un colpo. Gli mancava un colpo, raga. I'm going again. Qua... Nah. Oh, va. Vai, ancora uno. Ancora uno. Oh, my God. No, stava per morire. I'm crazy right now. Povero Benji, stava per morire. Ma, raga, ma... Quando vi entrano i... Quando vi entrano i colpi così, come reagite? Cioè, a me non entrano mai... Così. Non ho mai fatto un... Una kill con no scoop così. Uuuuh. Drive, 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 drive. Raga, drive, drive. La bad. C'è un track net. Oh, lol. Oh, mon die. Questa è... Questa è bravura, raga. Oh, 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 oh! Anche questa. Cazzo, ma questo qua è un cheater. Questo qua è un cheater. Oh, ma quante kill sta facendo? Ha anche 95.000 punti in arena, cazzo. Ci credo. Ci credo. Ah, che culo, figa. No, poverino. Ma che grafica sta usando questo qua? C'è una risoluzione stra... Strecciata. Oh, my God. Ha fallo in water. Oh, no way. I lost it. I lost it. I lost it. Oh, my God. You're so... Oh, my God. No, oh, my God. No way. No way. Nice. Incredibile, raga. Oh, my God. Porca merda. Se l'ha fatto male. Eccolo il mongralino che fa vedere il suo skill. Bam. Ma cos'era? Ah, l'ha ucciso di... Pensavo avesse sparato con il pompa. Vai. Oh, no way. No, no way. Questo... Questo... È stato... Incredibile, raga. Bam. Questo era... Era anche abbastanza facile. Figa. No, la UG... La UG è una roba impressionante, ragazzi. La UG, secondo me, è l'arma migliore del gioco. Non lo so, porra. I miei amici sono sotto. Unico. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Oh, lo vede di lei lì. A me piace questo streamer, Zemmy. Lo dovrei trovare su Twitch. Oh, my God. Oh, my God. He's white. Oh, my God. Bellissimo. Bellissimi questi... Questi trickshot di no scoop. Roll one, tap this kid. Madonna. Poverino. Pensavo di scappare in macchina. Oh, my God. Che vocina fastidiosa, cazzo. Oh, la pistolina. Io adoro la pistolina. A volte, è meglio che avere la R, secondo me, raga. Bro, l'uso. Why, get off me. My alpha V went and you two got dumped on. Così la smette di spammare. Bam. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ma. Oh, what the fuck. No, ma raga, ma io comunque volevo vedere un po' di clip di questa season. Non delle season vecchie, però. Oh, my God. Ok, warte, ma, was geht hier los? Shit. Questo non è capace di dare. Ah. La capacità dei paddini. Oh, mi ha spaccato le orecchie. Sei emozionato troppo. No, lo stanno per uccidere. Stavano per uccidere Benji. Oh, mamma mia. Non capita tutti i giorni, raga. Non è così semplice come sembra dal video. Non c'è l'ant'alto, non c'è l'ant'alto. Wow. Oh. Cypher, cosa mi combini? Oh, no, è sicuramente un trio. Somerset, vediamo. Bam. Wow. Ottimo, cazzo. La madonna, ma la stanno spammando di brutto, però. Oh, my God. What the fuck? Oh, my God. All right, I got a kill over here. Oh. Come ha fatto, raga? Non si vedeva neanche più dietro la montagna. Cioè, dietro la collina. Oh, my God. Oh, my God. Questo, raga, è il modo in cui dobbiamo giocare in questa season. Spammare e basta. Spammare con le SMG e le mitralibette. Oh, my God. Che culo. Che culo. Di solito anch'io ho questa reazione a quando mi hanno colpi in questo modo. Questo farà una kill della madonna adesso, vedrete. Oh, my goodness. È un dio con la mira. Easy. Easy. Oh, il piccone dell'FNCS. FRIMOC. Boom. Avete visto? È andato subito a clippare. A clippare la sua kill. C'è. Jump. Oh, my God. Oh. Oh, my God. Oh, my God. Boom. Allora, ragazzi, che ne dite? Secondo voi, tra tutti questi, ce n'è almeno uno di Cheater. Scrivete la vostra versione nei commenti. Mettete mi piace al video. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per qualche strano motivo. Attivate anche la campanella. E ci vediamo in partita, amici. Grazie a tutti per il supporto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Io mi chiamo la Styroji. GG. Ciao.